Entreranno nel vivo sabato le attività liturgiche in onore della Madonna del Quartiere, una delle più antiche tradizioni religiose della città. I riti dureranno una settimana, fino al 31 maggio. Sabato, come detto, starta le celebrazioni con la Santa Messa alle ore 18, seguita dalla processione per le vie della città con deposizione della Statua di Maria nella Chiesa di Sant'Agostino. Domenica 25 alle ore 18, Santa Messa nella Chiesa di Sant'Agostino, dedicata proprio alla Madonna del Quartiere. Il simulacro resterà esposto per tutta la settimana nella Chiesa di Via Colombo, nel Quartiere Marina, dove si terranno diversi momenti liturgici con la Santa Messa celebrata ogni mattina alle ore 10, mentre il pomeriggio ogni giorno verrà dato spazio al Santo Rosario, alle preghiere liturgiche, ai vespri e alle benedizioni. Il gran finale si vivrà domenica 31. Si inizia con la Santa Messa alle ore 18 a Sant'Agostino, al termine della quale la Madonna si muoverà in processione per le vie della città fino a fare rientro al quartiere in serata tra le due ali di Fedeli posizionate lungo la ripida salita.